E' stato il Blue Land Day 2023 l'occasione per parlare presso il CIAM di Bari, nella sede di Tricaseporto, della futura quarta area marina protetta in Puglia denominata Capodotranto Grotta Zinzulus e Romanelli Capodileuca, alla cui istituzione si lavora da anni. Sono 11 comuni interessati, oltre 59.000 residenti, una superficie totale superiore a 260 km quadrati e circa 100 km di costa. Potrebbe essere tra le più grandi d'Europa. Numerosi studi scientifici hanno evidenziato che si tratta di uno dei litorali a più alta naturalità dell'intera costa italiana, differente rispetto al resto della Puglia, per abbondanza di specie bentoniche e habitat chiave. L'istituzione di una area marina protetta significa non solo riconoscere l'importanza del territorio, ma significa anche creare uno strumento adatto per la tutela e per la sorveglianza. Il progetto è sicuramente ambizioso e veramente parliamo di un'area marina protetta molto estesa. Sicuramente è un qualcosa che stiamo aspettando e che auspichiamo che si possa realizzare. Quel partenariato che abbiamo costituito, formato da istituzioni prestigiose come l'Università del Salento, l'ARPA, la Regione Puglia e il Siam della sede di Tricase, sta cercando di dare un contributo importante, quello di accelerare il percorso, che naturalmente è un percorso che dovrà svolgere necessariamente il Ministero dell'Ambiente Italiano insieme all'ISPRA per la costituzione di questa area marina protetta che 11 sindaci oggi hanno fortemente auspicato che venga costituita al più presto.